Degli impegni presi in campagna elettorale nessuno di questi è stato portato avanti, quindi relativamente alla riduzione delle tasse, relativamente alla questione cimitero e relativamente alla questione acqua. Sono tutti temi rimasti assolutamente inesplorati, assolutamente assente dalla città l'amministrazione sotto le sue forme. Se si va al comune la mattina non si trova praticamente quasi nessuno e questo è un elemento di stacco dalla comunità comisana e i problemi stanno emergendo tutti. La città è molto sporca, la raccolta differenziata ha ridotto naturalmente le sue percentuali, la cultura e l'attenzione per i bambini è assolutamente cancellata, lo sviluppo delle opere pubbliche non abbiamo nessuna notizia per non parlare delle manutenzioni e se osserviamo anche l'attenzione alle piccole cose, se non fosse stato per l'opposizione che ha segnalato alcune decine di piccoli interventi, quegli interventi sarebbero rimasti in evasi. Per esempio dalle lampade bruciate nel parco, dalla pulizia delle strade, dall'attività di diserbo, insomma un'attività amministrativa pericolosamente assente. Per non parlare del bilancio che ci preoccupa molto attraverso le decisioni che vorranno prendere oggi pomeriggio in Consiglio Comunale sulle quali noi non siamo d'accordo.